Si completa quello che è stato un po' il progetto quest'anno insomma con il convegno che avete fatto con la consegna di un secondo defibrillatore qui alla scuola Gangitano ma le iniziative dell'associazione SCA continueranno sicuramente. Sì, intanto questa seconda consegna la stiamo facendo grazie al contributo importantissimo che ci ha fatto un nostro amico, ormai amico dell'associazione, Salvatore Lamattina, dell'Ottica Lamattina già impegnato nel sociale perché fa parte del Lions di Campobello e dell'Aido di Canicattì ma poi ascoltando le nostre interviste, vedendo quello che abbiamo fatto in questa giornata, la musica ti salva il cuore lui ha deciso di fare questa grande donazione che ha coperto gran parte della quota per acquistare il secondo defibrillatore e quindi noi per continuare come abbiamo deciso di fare le donazioni abbiamo deciso di donarlo alla scuola Gangitano questa volta. Ecco, naturalmente dicevamo che ci saranno altre iniziative nel ricordo di Emanuele Scarantino che è quello che vi ha spinto a organizzare la vostra associazione, un'associazione che vuole dare un'impronta particolare sul territorio. Allora, noi questo evento, la musica di Salvatore è stato il primo quindi l'intenzione è intanto di fare diventare questo evento un appuntamento fisso annuale e poi chiaramente a Natale, a Pasqua, faremo sempre piccoli concerti perché tutto quello che noi faremo sarà avvolto alla raccolta fondi sia per promuovere la prevenzione come abbiamo fatto in quella giornata sia per continuare ad acquistare materiale che possa servire allo scopo di rendere più sicura questa città. Il primo defibrillatore è stato consegnato e installato nella scuola Verga adesso questo è la Gangitano, quindi scuole cardioprotette, scuole protette sicuramente aiuterete anche la dirigenza nel formare gli insegnanti a utilizzare poi il defibrillatore? Sì, la misericordia di Canicattì, come nel caso della scuola Verga, offrirà un corso di formazione a tutti gli insegnanti della scuola Gangitano, di modo che questo dono non resti inutilizzato o non resti un soprammobile come è successo da altrove e potrebbe succedere ovunque. I giorni scorsi ne è stato rubato uno, era messo all'esterno, ecco qual è un po' il sentimento di chi invece si adopera per portare questi strumenti salvavita in istituzioni come le scuole ma anche in città. È un sentimento di rabbia perché la gente si impegna, spende anche soldi per fare tutto il possibile per rendere la città sicura e poi esiste gente incivile che non capisce per niente il dono, che non capisce l'importanza di queste cose e si permette di bruciare il lavoro fatto magari da 10, 20, 30 persone o anche una persona sola che si sforza e fa di tutto per aiutare la cittadinanza. La collaborazione con le associazioni, con il territorio per una scuola è molto importante, oggi questa scuola viene adottata di un defibrillatore che speriamo non venga usato però è lì all'occorrenza potrà essere usato per salvare qualche vita. Infatti è importantissima la collaborazione come si diceva con le associazioni e con l'associazione SCA in particolare abbiamo la fortuna adesso di avere grazie a questa associazione la dotazione in questa scuola di un defibrillatore. Noi ringraziamo oltre l'associazione SCA l'Ottica la mattina che ha contribuito all'acquisto di questo defibrillatore e cogliamo quest'occasione per far sì che diventi anche un modo per sensibilizzare gli alunni e i docenti sull'importanza dell'utilizzo di queste apparecchiature che possono in caso di necessità salvare individui, salvare la vita o a evitare anche danni gravi permanenti perché quando si ferma il cuore insomma in attesa che arrivino i soccorsi si possono avere delle conseguenze anche gravi. Dove sarà installato? Sarà installato all'interno della scuola, lo collocheremo qui nella sala dei docenti e a breve effettueremo anche un corso ad alcuni del personale in maniera che sappiano adoperarlo, speriamo di non adoperarlo mai ma in caso di necessità. Assessore, naturalmente prendere spunto da queste che sono le donazioni è importante anche per capire che una città cardioprotetta è una città più sicura, una città che ai cittadini rende ancora più sicurezza, però l'episodio dell'altro giorno ha fatto arrabbiare quello del defibrillatore che è stato rubato. Esattamente, non ci sono parole per descrivere un gesto del genere, un defibrillatore donato da nostri concittadini, da aziende del territorio che hanno voluto, che hanno creduto fortemente in questo progetto di rendere la nostra città più protetta dal punto di vista cardiaco. Il sindaco si è subito regato alle autorità competenti per sporgere denuncia e speriamo che possa essere fatta luce al più presto su questo gesto inqualificabile. Per cui chiediamo aiuto ai cittadini, a tutti i cittadini, anche per avere cura di tutte quelle che sono le nostre strutture, tutti quelli che sono gli sforzi dei cittadini, delle associazioni, delle aziende del territorio, proprio che sensibilizzano la città e i cittadini in queste importanti azioni di sensibilizzazione. Quindi oggi siamo qui alla Scuola Vangitano, grazie all'Associazione SCA, grazie all'Ottica la mattina che ha contribuito fortemente per realizzare questo progetto ed è di fondamentale importanza proprio in base al fatto che pochi giorni fa abbiamo assistito a un gesto così inqualificabile. Sarà ripristinato il defibrillatore al viale la vittoria? Ci siamo sin da subito attivati. Una parte del defibrillatore è stato rinvenuto alla villa però pensiamo che non possa essere riutilizzabile perché è stato danneggiato e in ogni caso sicuramente al più presto verrà sostituito.